Vi faccio vedere l'ultima nata, la Dyslave a 61 MLH Black Vespine di casa Valkane, canna ottima ovviamente per la partenza, abbinata con un nylon tre libere, super hard torai, o altrettanto valida ovviamente per la pesca con le hardbait, in questo caso ho un Orizard Li che crea molte molte vibrazioni in acqua, ovviamente abbiamo finito da poco la prima gara della stagione quindi il pesce è estremamente stressato, lo recupero a canna abbastanza alta, è un odunante che scende in maniera importante e crea soprattutto molte vibrazioni. Il video dell'azione della canna ha un'ottima riserva di potenza, quindi la quindi ci consente di essere veloci quando c'è bisogno di essere veloci, si adatta molto bene anche all'uso di grenca. Eccolo qua. Ciao a tutti e buon divertimento.